Ivo abbiamo sbagliato mezzo La bici Gli cicci sono, sono lì Però abbiamo voluto fare i basti incontrari Anzi non è che abbiamo voluto noi fare i basti incontrari Ma qualcuno vuole fare il basti incontrario E quando è inverno fare I salti in bici E poi ci attirano perché c'è il salto in bici Poi però quando arrivi qua fa freddo e dici Che cazzo è fa freddo Ciao Tonto Guarda qua Chi c'è? Come stai? E' tutto molto bello qua Mi piace Vorrei saltare Allora Fabio Come stai Tonto? In realtà erano lì E ragazzi In un posteggio al freddo all'ombra Si è nascita la macchietto Ma cazzo Monza c'erano 20 gradi Perché siamo venuti? Però invece adesso Col sole così Mi sa che rivalutiamo magari un po' la situazione Questo è il regalo per te Addirittura? Sì Anche se io non bevo birra La regalerà L'assaggeremo lo stesso Vieni Per te Te no Io no niente Non posso Mi faccio assaggiare un goccino Va bene Ma poi Fabio non so se hai capito Lui è di Napoli Ma con cosa è venuto a piedi? Eh più o meno sì E a Napoli non ci sono i mezzi di trasporto King Wolf Snow Livigno Scuola chiusa a Napoli Sono ciecato dal sole mamma mia Comunque Questo evento Organizzato da The King È solito Fabio Che avete già visto probabilmente il video in Liguria A Diano Marina È un evento che fa ogni anno Dove fa una gara Sia i due a slalom Quindi in discesa Con le bici a di H E poi ha fatto Ha costruito anche un salto da dirt Però salteremo Sempre la bici a di H Io non ho portato la bici a di H Perché Secondo me è troppo Usare la bici a di H Ho portato l'enduro E Dovrebbe esserci la sigla Prima di inizio il video Il video di torino 2 1 SIGLA 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 Vuoi farle sbrappate Ivo? Non so se molle o dura la gomma eh Tu che hai già fatto Hai già fatto qualche discesa? No Tanto per non tenerle non tiene lo stesso Quindi tanto vale No tanto vale Proviamo a non farle tenere Che nezzata è lo skillif con la bici? Ho paura Oh cazzo Ah dove è? Mancato tutto Andare ecco non arriva un altro Ah da dentro È stranissimo Ce l'ho su sbagliatissimo Ce l'ho in mezzo alle cosce qua Vabbè approfittiamone Tanto che stiamo salendo per far due parole In teoria adesso proviamo la pista del Duaslalom Guarda lì Prensima volta che provo ad andare sulla neve sulla pista da sci In realtà ho già fatto dei contest proprio del campionato del mondo sulla neve Contest che si chiama Wild Style che facevano fino a qualche anno fa Che però non era direttamente sulla neve I salti in realtà erano completamente pannellati di legno sotto Quindi sulla neve c'eri ben poco È un po' più difficile staccarsi Comunque ho già fatto la figura del palotto sotto perché ho mancato due volte il coso Molla Eccolo è andato Va bene Ciao Ivo ciao Ivo Ti follovo Ma fa paurissima stiamo andando velocissimi ragazzi Oh shit Oh ma qua cosa c'è Minchia cosa si slida Oh di qua si va Dai rifacciamo un'altra volta per provare Ragazzi che figo comunque E poi una cosa impressionante è la velocità Cazzo si fa veramente fortissimo Non mi sono incastrato sto giro Oh ma c'hai quegli sci o no? C'hai quegli sci o no? Come fa? Tu puoi girare Certo E io li portati Vado a casa a prenderli e giriamo Eh sì Un pochino due rail Partito è partito Dai vai di te Ivo che l'hai già fatti Ti seguo Di fianco saltiamo Ivo sono di fianco Sono di fianco Ti supero Vai piano vai piano Allora forma semplice Siamo testa a testa l'uno contro l'altro Chi vince passa avanti al secondo turno Ok Cosa non vale fare? Non vale tagliare Poi sportellate Divertite Fate quello che volete Le coppie le abbiamo già fatte Attenzione Ce le abbiamo qua Tra l'altro Sono proprio il primo a partire Come vi ho detto Con che bici sono venuto Vi ho detto che ero con l'enduro In realtà sì È l'Allmonte Non è neanche l'enduro La Rose Pikes Peak Ho preso questa siccome In teoria c'è anche un salto Quindi dopo faremo qualche trick di là E questa è più facile Da usare per i trick Rispetto alla bici proprio da downhill Ci lamentavamo del freddo Adesso si muore di caldo È vero Tu sei shaper qua allo snow park? Sì Grande Prima gara fatta Abbiamo passato il turno In teoria Se passiamo tutti i turni Sono cinque giri in totale Allora Ivo non vuole ammettere Quello lì Che ha perso Contro Nicole Ammettilo? Bravo Il segno di pace ecco Ho rotto il casco Adesso sono io contro Nicole Opa Bella Due Uno Via Ci sei? Sei viva? Grandissima cazzo Mi stavi dietro? Grandissima cazzo vai È bastarda adesso È scivolo C'è molto più Soprattutto quella corbetta C'è la ruota proprio Che va dentro nei canaletti Due Uno Via 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 Oho! Ohoho! Ah! Cazzo, grande Franz, si va giù qua, bella, non l'avevo più in partenza, non ho spinto un cazzo quando dovevo pedalare, molto divertente, veramente figo, sì, allora, finito, la gara dell'avalanche, ha vinto Franz, io secondo e Luca, adesso facciamo un po' di salti di riscaldamento, su salto ador che ce l'ha, occhio, ti tiro eh, occhio, sei Ricchi? Si è piccolissimo il salto, si si è piccolissimo, un flip in e poi vado a prendere gli sci così, salto un po' con gli sci, occhio, occhio, la rampa l'abbiamo spostata di un metro, flipi anche te, dai ti filmo da fuori, ho cinque, fortissimo, fermo immobile, qua lungo, lungo Ivo, non so la velocità nel dubbio, overshot siccome non partecipo al best trick per lasciare spazio ai giovani, no perché se no poi se no non vinco mi insuzzano, devo fare il ventacco c'è Ivo, allora, tu devi spaccare prima partita, Ivo, incazzare, Ivo, incazzare, Ivo, c'è Ivo nel best trick, andiamo io volevo un 3-6, non volevo un flip, e 3-6, niente 3-6, ero qua per filmarti quello, mi ha chiamato mi ha detto vai su a filmarmi 3-6, è stato lì aspettare che partissi e poi non mi fa neanche 3-6, non mi fa neanche 3-6, neanche 3-6, è falso, allora ragazzi tornati alla macchina un attimo, io tiro fuori i miei bellissimi sci, si scredda, scredda, un po' in sci stiamo andando a Magna e poi se scia c'è lo snowparkino qui, un po' di rail, così mi posso un po' migliorare i vari box, ci sono anche i rail curvi, vediamo se li riesco a provare, torquando testa, attesiva, attuol, ok ragazzi finalmente ci siamo, stiamo salendo per farci sciatina col Liljiei, ti faccio vedere come prenderesti quello là, ti faccio vedere No, non giro No, non giro No, non giro Grandissimo Oh, ci vediamo la prossima volta Adesso devo tornare a Monza Che giornata raga Che giornata Ok, tra l'altro arrivati praticamente Siamo già qua Allora Bene, carichiamo Bici, sci Storno a Monza che domani bisogna aprire il park Spero che anche questo video vi sia piaciuto Siamo andati in bici, abbiamo fatto la gara di dual Abbiamo fatto il best streak Ivo ha vinto il best streak, è vero Forse non ve l'ho detto nel video Abbiamo mixato penso Le due cose che apprezzate di più sul mio canale Ricordatevi iscrivervi che mi farebbe un sacco piacere Grazie a tutti sempre per il supporto È sempre fondamentale Ci vediamo, al prossimo video Ciao 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 Ciao